Bentornati nella VR Zone con l'aggiornamento V37 dell'Oculus MetaQuest. Aggiornamento più grande mai avvenuto. Roba come Horizon Home, hand tracking migliorato, grafica migliore quando collegato al PC e tanto altro. Come ben intuite l'aggiornamento V36 non c'è stato, probabilmente dovuto alla grande mole di funzioni introdotte in questo aggiornamento. Le funzionalità e miglioramenti sono in atto dal 17 gennaio, quindi come sempre se non vi sono arrivate non vi preoccupate, aspettate e nei prossimi giorni arriverà a tutti. Iniziamo con le app first party di Oculus, ovvero quelle che vedete nello store, non verranno messe all'inizio, ovvero in cima alla libreria delle app, invece sarà possibile organizzare la lista appunto delle applicazioni e dei giochi attraverso dei filtri. Quindi fantastico, una funzione che chiedevamo da un sacco di tempo e finalmente possiamo personalizzare quindi la nostra lista di giochi e applicazioni, quindi niente di assurdo, ma comunque un grandioso inizio. Passiamo ora al Link Sharpening, la funzione che permetteva di aumentare la chiarezza dell'immagine quando usato in Link o Air Link, quindi attraverso cavo o wireless collegato al PC. Ecco, adesso abbiamo il Link Sharpening Plus o più, infatti è stata migliorata ancora di più questa funzione. Se già non era un passo avanti, ora sarà una goduria giocare PC VR con il Quest. Vediamo invece il Guardian, perché è stato migliorato anche questo. La nuova funzionalità riguarda il Guardian stazionario e direi finalmente, finora quando si stava seduti e si superavano i limiti imposti, venivano visualizzate le barriere rosse. Ora invece ti verrà mostrata solo una piccola zona attraverso il pass-through, quindi ti verrà mostrato il mondo reale. Questa è una cosa fighissima, era ora, vi giuro, preferivo mettere la modalità room scale per non vedere quelle sbarre, anche se ero comunque seduto. Quindi, nice. Ecco la prima bomba che ci avvicinerà al metaverso. Finalmente vediamo l'arrivo di Horizon Home, la nuova casa per il Quest. Quindi ti permetterà per ora di teletrasportarti dove vuoi nel tuo ambiente. Quello che dovrai fare sarà premere il bottone dell'Oculus nel tuo controller e far sparire il menu. Poi ti basta muovere l'analogico in avanti e teletrasportarti. Quindi rilascia l'analogico e sbam, il gioco sarà fatto. Come qualsiasi gioco sappiamo come funziona, no ragazzi? E potrai pure ruotare su te stesso, quindi muovendo l'analogico a destra e sinistra. Mi raccomando, il menu non deve essere visibile. Queste sono solo le informazioni che ha dato Meta, quindi appena arriverà l'aggiornamento anche a me, vedrò effettivamente se c'è bisogno di farci un video e vedere tutte le funzionalità di Horizon Home. O magari hanno messo solo questa. Adesso non ve lo posso assicurare. In caso ci farò un video. Calmiamoci, ma neanche troppo, perché come detto la personalizzazione non finisce qui. Si potranno ridimensionare le finestre sia in larghezza che in lunghezza e verranno inizialmente supportate applicazioni come il browser, Oculus TV e il gestore file. Anche poi per esempio app 2D che sono tipo già disponibili, che sono adesso disponibili sul Quest. Più o meno nello stesso tema arriva maggior flessibilità nel modo in cui le app 2D vengono mostrate, potendo cambiare la distanza, la dimensione e rotazione usando questa barretta grigia qui sotto, per cambiare tra la modalità tablet e desktop. Per cambiare tra le varie modalità basterà premere sulla barra grigia qui in basso e muoverla su o giù. Se usi il browser cambiando la modalità desktop a quella tablet, le schede verranno unificate in un'unica finestra. Invece se fatto il contrario verranno divise, come in precedenza. Questa è una cosa molto carina, la personalizzazione è sempre una cosa che apprezziamo tantissimo noi utenti Quest. Poi arriva il supporto alla tastiera Magic di Apple, cosa che avevamo più o meno già visto, solo per Meta Quest 2 però. Potrei quindi usare la tua fedele tastiera anche in realtà virtuale, a patto che sia attivo l'entracking. Quindi mi raccomando attivate l'entracking, se no non vi funziona. Seconda bomba, secondo passo verso il metaverso. Al Connected 2021 avevano mostrato la possibilità di integrare contenuti dal tuo telefono direttamente in VR. Un vero sogno, direte voi. Poter mandare quindi un link ad un amico mentre lui sta in VR. Ebbene quel sogno è praticamente arrivato. Sebbene sia tu a dover mandare il link a te stesso al visore, ma comunque tanta roba. Quindi quello che bisognerà fare è avere il visore acceso, attivare il bluetooth e collegarsi al telefono, che deve essere Android. Viene detto che iOS arriverà in futuro, quindi non vi preoccupate. Poi dal telefono andare nel sito che si vuole mandare. Premere su Condividi e selezionare l'Oculus App. Una volta aperta, cliccare su Apri adesso. Selezionare il tuo visore, se ne hai più di uno, clicca quello che stai usando in quel momento e in automatico apparirà in VR. Resta un tantino macchinoso, quello sì, ma speriamo divenga sempre più immediata la cosa. Quindi aprire link come, per esempio, video di YouTube non è mai stato così interconnesso. Altra figata pazzesca, finalmente, lo dico ora, era ora ragazzi, arrivano le gestures con le mani. Mi sembrerà strano, ma molti giochi già hanno integrata questa cosa, ma il quest ancora no. Con l'hand tracking, quindi, si avrà accesso a delle scorciatoie per fare, per esempio, delle foto, degli screen, in pratica, o, per esempio, attivare dei comandi vocali, insomma, tanto altro. Per aprire questo piccolo menu bisognerà mettere la mano di fronte a te, unire l'indice e il pollice, aspettate un pochetto e a un certo punto aprirà un piccolo menu. A quel punto potrai scorrere tra le varie funzioni. Era un casino ogni volta usare l'hand tracking senza controller, anzi, impossibile. Per esempio, uscire da un gioco era pressoché, pressoché impossibile. Ma ora, non più. E' stata migliorata anche l'esperienza generale che si ha esplorando l'ecosistema Oculus, rendendo più facile trovare amici o comunque cercare giochi, applicazioni, contenuti che siano più adatti a te. E infine, per risolvere eventuali problemi con il controller che accadono o che potrebbero accadere, o semplicemente per dare maggiore accessibilità ai controller, si potrà gestire la posizione centrale, chiamiamola morta dell'analogico, dove magari non risponde o non dà segni di vita. Ed eccoci alla fine di questo video, di questo aggiornamento V37. Riguardo Horizon Home, appena arriva l'aggiornamento, anche a me vedrò di mostrarvi meglio nello specifico come funziona. Ora, se è semplicemente il teletrasporto, non penso che ci sia bisogno. Staremo a vedere. Detto questo, non dimenticatevi di iscrivervi al canale ed accendere la campanellina, così da essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo VR, XR. Grazie a tutti.